Mille denunce fatte in passato sono rimaste lettere morte, a parlare è Alessandro Mugnas, segretario dell'Associazione Politica Reset Vittoria. Interi quartieri sono rimasti ancora una volta senza acqua, è purtroppo un late motive che si ripete, nel contesto di una non curanza che non può essere più sottaciuta. Mugnas chiede una volta per tutte di individuare una soluzione urgente e che è in grado di fornire delle risposte alla collettività. In alcuni quartieri della città, sottolinea ancora il segretario di Reset, l'erogazione dell'acqua è prevista a giorni alterni, ma evidentemente la pressione continua ad essere così scarsa da non approvvigionare le cisterne nelle case, neppure quando il prezioso liquido dovrebbe arrivare. Ringraziamo chi in tempi non sospetti ha creato strutture e acquistato pozzi per lasciarli inutilizzati. Vittoria ha i bacini idrici per vendersi l'acqua, ma ad oggi si acquista a caro prezzo per restare ugualmente senza. È davvero incomprensibile tutto ciò. Una considerazione politica voglio farla, continua Mugnas. La commissione straordinaria che gestisce le sorti dell'ente di Palazzo Iacono sembra non avere le competenze e aggiungere anche la scaltrezza per poter sanare le immani difficoltà con cui tutta la collettività vittoriese sta facendo i conti. Pretende, tra l'altro, che il canone idrico sia saldato in maniera tempestiva quando i cittadini continuano a spendere il fior di quattrini per assicurarsi le risorse idriche con le autobotte private. È davvero uno scenario che si commenta da solo. Così come si commenta da solo chi ha inneggiato allo scioglimento del comune di Vittoria e chi non ha saputo gestire questa ingresciosa situazione con la dovuta umiltà. Scelte pesanti che la collettività tutta sta continuando a pagare. Ma riteniamo che, politicamente parlando, sia arrivato il momento di mettere fine a questa storia. Non è più possibile andare avanti in tale assurdo modo.